Trattare un tema delicato come quella della dipendenza non è particolarmente semplice perché presenta diverse sfaccettature e moltissimi elementi da prendere in considerazione. Trasgredire le regole, soprattutto in età giovanile, può essere considerato naturale. Tuttavia, se certi atteggiamenti diventano abitudinari, questo fatto potrebbe portare ad una serie di disagi causando squilibri di natura fisica e di natura cognitiva. In questa lezione cercheremo di capire e di definire il concetto di dipendenza patologica esaminando in seguito quelle più diffuse e anche le alterazioni del comportamento cui esse danno sicuramente luogo. Per dipendenza intendiamo un'alterazione del comportamento che da semplice o comune abitudine diventa una ricerca esagerata e patologica del piacere attraverso mezzi, attraverso sostanze o attraverso comportamenti che appunto sfociano in una condizione patologica. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di dipendenza e la definisce come quella condizione psicofisica derivata dall'interazione esistente fra un organismo vivente e una sostanza tossica, condizione caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che determinano sempre più un bisogno ossessionato e compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico allo scopo quindi di provare i suoi effetti psicologici e talvolta evitare il malessere della sua privazione. Prima però di approfondire l'argomento sulle dipendenze è importante verificare quali differenze sono contenute nei termini uso, abuso e dipendenza. L'uso fa riferimento alla prima occasione che può essere sicuramente sporadica e quindi occasione durante la quale la persona sperimenta la sostanza sia per pressione sociale sia spinto dalla pura curiosità a farlo. L'abuso invece presuppone un utilizzo continuato della sostanza, utilizzo continuato che può dar luogo a situazioni pericolose per il soggetto creando potenziali rischi per la salute tanto dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico. La dipendenza invece si instaura ogni volta che la persona non può più controllare l'utilizzo che fa di una determinata sostanza che andrà appunto ad influenzare negativamente la sua vita. Nel momento in cui un individuo giunge alla fase di dipendenza è difficile tornare indietro in quanto si sono già verificati dei cambiamenti strutturali a livello cerebrale, cambiamenti che coinvolgono il sistema della ricompensa regolato dalla dopamina. Che cosa si intende per sistema della ricompensa? Quando parliamo di sistema della ricompensa facciamo riferimento ad un gruppo di neuroni che sono responsabili della motivazione, dell'apprendimento associativo, delle emozioni positive, in particolare di quelle che coinvolgono il piacere come componente fondamentale. La dopamina è un importante mediatore chimico o per meglio dire un neurotraspettitore chimico presente nell'organismo umano che presiede alla trasmissione degli impulsi nervosi. In generale tutte le sostanze che generano dipendenza hanno degli effetti significativi in una specifica regione del nostro cervello particolarmente ricca di dopamina e nota come nucleo accumbens. Somministrando cannabis, cocaina o altre sostanze stupefacenti aumenta sempre più la quantità di dopamina che viene ad essere rilasciata. Il rilascio di dopamina scatenato dalla sostanza di abuso provoca una sensazione di piacere, una sensazione di benessere che spinge la persona a volerne ancora, a ricercarne sempre di più e in maniera continuativa. Pertanto entrano in gioco i fenomeni di craving, ovvero il desiderio smodato della sostanza o del comportamento ed il pensiero fisso alla successiva occasione utile per poter di nuovo sperimentare gli effetti. Si sviluppa inoltre la tolleranza che consiste nel bisogno di quantità sempre maggiori di quella sostanza per poter sollecitare la risposta di piacere provata la prima volta. Una volta instaurata dipendenza il soggetto può andare incontro a uno o più sintomi di astinenza, una volta che l'assunzione della sostanza o la messa in atto del comportamento vengono meno. La sindrome di astinenza varia in base al tipo di dipendenza e può comprendere un insieme di sintomi che vanno dai cambiamenti di umore, ansia, irritabilità, a vere e proprie manifestazioni fisiche come tremori o vomito e in casi più specifici situazioni di allucinazioni e rischi molto gravi per la salute. Una dipendenza può essere fisica o psichica e fisica quando l'organismo del soggetto che abusa di quella sostanza aumenta la sua soglia di tolleranza nei confronti della stessa andando a richiedere dosi sempre più bassicce per ottenere lo stesso effetto. Oppure fisica in questo caso è legata ad una voglia assoluta di utilizzare quella determinata sostanza di cui non si riesce a fare a meno. Si può essere dipendenti da alcol, tabacco, droga, ma anche da internet, ma di questo parleremo in un successivo paragrafo. Nonostante esistono diverse dipendenze patologiche da sostanze in ambito medico, si individuano una serie di sintomi comuni di natura cognitiva, comportamentale e fisiologica. A prescindere dal tipo di sostanza, le dipendenze patologiche presentano un insieme di comportamenti che sono caratteristici e che sono riassumibili in questi punti. Innanzitutto perdita della capacità di controllo sull'abitudine che porta ad un utilizzo smodato della sostanza che crea dipendenza. Questo fatto comporta un uso prolungato ed eccessivo che sfocia appunto nel craving, definibile come un intenso desiderio della sostanza che può manifestarsi in qualunque momento anche se avviene con maggiori probabilità dopo uno stimolo associato alla stessa. Un altro comportamento è l'utilizzo rischioso della sostanza che altera il proprio stato psicofisico. Il soggetto colpito da dipendenza consuma la sostanza in situazioni anche potenzialmente pericolose, tanto per sé quanto per gli altri, come ad esempio utilizzarla mentre si è alla guida. Un ulteriore comportamento è rappresentato dal ritiro dalla vita sociale. La dipendenza patologica infatti compromette lo svolgimento dei compiti giornalieri così come dai rapporti interpersonali. Spesso chi soffre di dipendenze da droghe o altre sostanze tende ad isolarsi dalla famiglia e dagli amici. Per quanto riguarda le cause che possono indurre dipendenza possiamo dire che queste possono avere natura diversa da quella psicologica a quella genetica. In generale sembra proprio che i giovani a 21 età tra i 18 e 24 anni abbiano rispetto alle altre fasce d'età una maggiore incidenza nell'utilizzo di sostanze che creano dipendenza. Le cause della dipendenza patologica sono da ricercare nei fattori biologici legati ad un'alterazione della produzione dei neurotrasmettitori endogeni, quale ad esempio la dopamina. Uno studio mette in luce il ruolo cruciale della dopamina nei meccanismi di ricompensa e gratificazione, individuando proprio in un dosaggio eccessivo dell'ormone una predisposizione alla cosiddetta aggiunta. In sostanza una dose eccessiva di dopamina altera il sistema di controllo nei meccanismi che regolano il piacere, la gratificazione e la ricompensa. Altri fattori che possono essere considerati causa di dipendenza sono i fattori sociali, legati alla situazione socio-economica della famiglia, all'esposizione a fonti di stress e alla familiarità con dipendenze di qualunque entità. Un'ulteriore causa può essere rappresentato dai fattori di apprendimento. Le persone infatti imparano a mettere in atto comportamenti di abuso a causa di processi di condizionamento. Il condizionamento classico prevede che ci sia un'associazione tra il piacere dell'uso della sostanza con degli stimoli ambientali. Ad esempio una persona che fuma in macchina alla fine della giornata lavorativa tenderà ad associare il piacere del fumare mentre guida verso casa proprio con la fine della sua giornata di lavoro. Vediamo adesso quali sono le tipologie di dipendenze patologiche più diffuse. Innanzitutto le dipendenze da sostanza. In questa categoria rientrano l'alcolismo, la dipendenza da droghe, siano esse droghe leggeri o droghe pesanti. Poi abbiamo le dipendenze di natura comportamentale, quale potrebbe essere il gioco d'azzardo e lo shopping compulsivo. Abbiamo inoltre le dipendenze sessuali come la pornodipendenza, le dipendenze alimentari riscontrabili in patologie come la bulimia o disturbi dell'alimentazione. Abbiamo delle dipendenze tecnologiche come quelle da internet o dai social media.